Fino al 24 aprile visitabile nella sala espositiva dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico via Arsenale 14GA Torino l'esposizione Piemonte e Chiese Santuari Abazie, ovvero 35 opere pittoriche sui più importanti edifici religiosi del Piemonte. Chiude il 20 aprile negli spazi della Biblioteca della Regione via Confienza 14 a Torino la mostra I Cavatappi, storia, brevetti, artigianato, curiosità dal XVII secolo ad oggi. Un percorso espositivo curato dal segretario dell'Associazione Italiana Collezionisti di Cavatappi Armando Cecconi attraverso oltre 100 cavatappi d'epoca. Il 14 aprile si concludono due rassegne. A Palazzo Lascaris 40 anni di notizie che racconta in immagini l'evoluzione della storica rivista della Regione e nella sede di Piemonte artistico e culturale in piazza Solferino a Torino da moneta unica a unica moneta, 10 anni di euro. 200 vignette per riflettere con un sorriso su come l'euro ha cambiato l'economia e le abitudini degli italiani.